Ciao a tutti, oggi abbiamo iniziato a gettare le basi per il governo del cambiamento. Come sapete il tavolo in cui si riunivano sia parlamentari della Lega che parlamentari del Movimento 5 Stelle ha iniziato a fare un confronto sui vari punti del programma per buttare giù quello che abbiamo detto fin dall'inizio e cioè un contratto di governo che metta nero su bianco le soluzioni che vogliamo dare ai problemi dei cittadini. Quelle soluzioni che i cittadini aspettano da 30 anni. Adesso ci siamo, questo primo confronto è andato molto bene perché abbiamo visto che sui vari punti dei nostri programmi c'erano margini di convergenza molto importanti. Sapete quali sono, dal reddito di cittadinanza per il Movimento 5 Stelle alla flat tax per la Lega ma parliamo anche della giustizia, della lotta alla corruzione, alle pensioni, al superamento della legge Fornero, al conflitto di interessi. Insomma i problemi di cui la politica in passato ha sempre parlato ma che non ha mai risolto adesso sono pronti ad essere messi in un contratto di governo tra due parti che si stanno confrontando. Il tavolo quindi si è concluso su questo primo confronto. Fra due giorni, sabato pomeriggio, dopo che avremmo rielaborato in maniera un po' più dettagliata e approfondita quello che ci siamo detti oggi, ci rincontreremo per cominciare proprio con la redazione definitiva del contratto di governo. Stiamo cominciando a cambiare l'Italia e lo stiamo facendo con orgoglio ed entusiasmo. Vi terremo come al solito costantemente aggiornati. Ciao.